Buonasera Milano, piazza affari più 1,38%, quindi chiusura positiva e acquisti, come vedete alle mie spalle, diffusi praticamente su tutto il listino, chiusura 25.918 punti insieme alle altre piazze europee e nel momento in cui vi sto parlando anche Wall Street sta viaggiando bene con rialzi su tutti e tre principali indici. Cosa succedeva oggi? Lo sappiamo, c'era una attesa per le decisioni della BCE, BCE che conferma quindi di voler andare dritta per la propria strada nonostante le difficoltà che sono emersi in questi giorni riguardo le banche, prima statunitense e poi di Credit Suisse e per chi ha visto il video di ieri immaginavo che il fatto che la BCE tirasse dritta per la propria strada poteva essere vista favorevolmente dal mercato, in quanto indirettamente va a confermare che la situazione per quanto riguarda le banche europee è sotto controllo. Christine Lagarde ha presentato come al solito i dati, ci ha tenuto a precisare che per quanto riguarda le proiezioni economiche però, attenzione, i dati si fermano al primo di marzo, quindi non tengono conto degli ultimi accadimenti, riferimento chiaramente alla situazione delle banche americane e non, però è stata diciamo a un certo punto durante il suo discorso incalzata da domande di giornalisti che appunto volevano capire meglio cosa la BCE pensava della situazione attuale e cosa avrebbe potuto fare nel caso la situazione delle banche di liquidità fosse uscita fuori controllo. In buona sostanza Christine Lagarde ha un po' eluso così le domande, ha risposto un po' vaga dicendo in buona sostanza che la situazione delle banche europee in questo momento vede una liquidità che non desta preoccupazioni ma che se vi fosse necessità sono pronti ad intervenire. Qualcun altro è stato ancora più pungente e ha chiesto se si sono fatti un film di quello che potrebbe succedere appunto sulle banche con i prossimi rialzi dei tassi e anche in questo caso Christine Lagarde è stata brava a sgattaiolare via diciamo e ha semplicemente detto che loro monitorano tutta la situazione quindi stanno elaborando tutti i dati e tutti i dati entreranno nel calderone finale per poi arrivare alle prossime decisioni quindi ha fatto capire che valuteranno anche la situazione delle banche. Quindi non si è esposta più di tanto ma in questo momento ai mercati è bastato. Se andiamo però a vedere quello che diciamo secondo me ha rassicurato un po' la giornata non solo italiana ma anche americana oltre al fatto che non sono emersi grosse novità sul fronte BCE c'è anche una notizia Wall Street Journal è la fonte JP Morgan sarebbe una delle grandi banche che potrebbe andare in soccorso per quanto riguarda la liquidità di First Republic Bank quindi in America si stanno muovendo un po' tutti grossi gruppi bancari e la stessa Fed in Italia meglio in Europa arrivano per adesso solo rassicurazioni ieri sera Wall Street ha chiuso contrastata stamattina siamo partiti bene anche perché qualcosina per Credit Suisse si è mosso in serata le autorità svizzere hanno fatto capire che possono offrire liquidità per quanto riguarda Credit Suisse offrono una cifra di 50 miliardi di franchi una cifra esorbitante ma attenzione perché questa cifra è stata bruciata anzi è stata bruciata il doppio 100 miliardi di franchi negli ultimi 15 anni da Credit Suisse pertanto al mio modo di vedere la questione è piuttosto stringente e bisognerà capire la tempistica con cui si riuscirà eventualmente io spero di sì si riuscirà a uscire da questo impasse perché con la fuga di capitali e di investitori i tempi anche con disponibilità fresca di denaro possono ulteriormente stringersi la candela diciamo brucia da due parti l'ho scritto anche questa mattina nel messaggio di preapertura che altro dire andrei a vedere a questo punto il grafico di Milano anche perché è stata appunto una seduta abbastanza volatile e lo vediamo subito prima sul grafico 5 minuti e poi sul grafico giornaliero grafico 5 minuti ho selezionato le ultime due sedute perché volevo farvi vedere come ieri alla fine si sia trovata una base sui minimi questa mattina siamo partiti bene poco sotto quota 26.000 punti ma subito il primo diciamo a lungo così forse dovuto appunto alla notizia che le utilità svizzere andavano in soccorso di Credit Suisse ma poi per tutta almeno per tutta la mattinata si è rimasti intrappolati in quest'area diciamo dei minimi aspettando il dato appunto sulle decisioni della BCE volatilità la vediamo subito in concomitanza dell'uscita del dato la prima reazione proprio la primissima è stata negativa infatti siamo scesi sotto i minimi di ieri ma poi ancora qualche scossone e qui diciamo ha incominciato a parlare Christine Lagarde e dopo di che il mercato è salito fino a chiudere positivo a quota 25.918 punti vi faccio notare inoltre un dato che ho rilevato quindi si pensa a una seduta caratterizzata col foco sulle banche il rialzo di piazza affari è stato diciamo discreto ma attenzione perché come vedete nelle prime 10 posizioni non risultano a parte unicredit non risultano banche quindi acquisti sì sui bancari ma non troppo perché li troviamo anche in fondo alla classifica e questo a mio modo di vedere sta a significare che l'attenzione comunque sui bancari rimarrà alta anche nelle prossime sedute non tutto può essere diciamo archiviato così con un colpo di spugna adesso andiamo a vedere invece il grafico giornaliero eccoci qua grafico giornaliero per chi ha visto il commento di ieri auspicavo come primo segnale positivo una ripresa del minimo di lunedì abbiamo aperto questa mattina in poche parole in prossimità proprio di quel minimo il primo tentativo di rialzo è stato respinto dopodiché lunga spike che ha rotto anche i minimi di ieri e chiusura che però rimane sotto il minimo di lunedì quindi bene ma non benissimo come diceva la canzone ci sarà ancora da capire e magari domani qualcosa di più chiaro potrà emergere visto che siamo anche sulla chiusura della settimana rimane tutto un po' così appeso la stessa situazione sul DAX anche in questo caso parlavo nel commento di ieri di una ripresa un segnale positivo almeno la ripresa dei 15.000 punti anche in questo caso il DAX apre poco sotto anche lui va a fare una spike e questa volta c'entra perfettamente il supporto che vi avevo evidenziato negli scorsi video e chiude però a 14.967 punti il rialzo è stato più consistente di quello di Milano più 1,57 ma chiude appunto sotto quota 15.000 direi che c'è tutto per mantenere diciamo alta la guardia e quindi il mio consiglio è sempre quello di non farsi prendere ancora un po' la mano non tutto è recuperato ma nel tutto è perduto grazie per l'attenzione e al prossimo video grazie per l'attenzione e al prossimo video